Tutti i membri del gruppo pro-democrazia dell'ECO, il Parlamento di Hong Kong, hanno rassegnato le loro dimissioni, lasciando l'organismo legislativo privo di opposizione. La decisione del gruppo di 15 parlamentari dipende dall'estromissione di quattro parlamentari democratici richiesta da Pechino. I quattro sono Alvin Young, Dennis Kvok, Kok Wai-Ki, Kenneth Leung. Sono accusati di aver minato la sicurezza di Hong Kong. Difendiamo il popolo di Hong Kong, combattiamo per la democrazia e oggi ci dimettiamo dall'incarico perché i nostri partner, i nostri colleghi, vengono squalificati dalla mossa spietata del governo centrale, ha detto Wu Qing Wai, membro del gruppo di missionario. Carrie Lam, la responsabile del governo di Hong Kong, ha precisato che non aveva il potere di estrometterli, tuttavia la risoluzione annunciata da Pechino ha fatto sì che il governo di Hong Kong dovesse metterla in pratica. Alla domanda se in futuro ci saranno ulteriori sicuramenti, Lam ha risposto che le decisioni saranno prese a tempo debito.